Finita la partita, il poker rosso-nero è servito, 88 minuti gol Sinani, su assist di Murati, segna il quarto gol del Milan, 82 minuti continua il tiro al bersaglio rosso-nero, prima Llamas e poi Sinani costringono Cerofolini a un doppio intervento, 80 minuti sostituzione Bellodi al posto di Sportelli, 76 minuti sostituzione Ture al posto di Lacti, 75 minuti Cerofolini devia in angolo il tiro di Sinani, 73 minuti sostituzione Brescianini al posto di Pobega, 72 minuti Ammonito Lacti per fallo su Pobega, 67 minuti sostituzione Nanelli al posto di Longo, 66 minuti Cerofolini devia in angolo il tiro di Negri, 65 minuti respinta pugni chiusi di Cerofolini su Turo di Llamas e 64 minuti ancora Larsen vicino alla quarta rete, stavolta con un tiro dal limite di poco sopra la traversa, 62 minuti contropiede Rosso. Nero con uscita dalla porta di piede di Cerofolini, conseguente tiro cross con colpo di testa a porta sguarnita di Larsen di poco alato, 61 minuti sostituzione Sinani al posto di Dias, 57 minuti sostituzione Meli al posto di Diacheite, 56 minuti angolo di Sottil direttamente sul fondo, 49 minuti gol. Stavolta è Larsen dentro l'area a bucare per la terza volta la difesa viola, ancora non esente da colpe inizia il secondo tempo finito il primo tempo, 39 minuti gol raddoppio Rosso Nero ancora con Capanni, con la difesa viola ferma, 32 minuti discesa sulla destra di Sottil che supera in velocità, 3 avversari ma mette al centro quando la palla è già finita a lato, 26 minuti sulla punizione di Dias, Cerofolini si allunga e devia in golo, 22 minuti a monito Negri per intervento falloso su Ranieri, 17 minuti punizione di Mosti parata in due tempi, 17 minuti a monito Sportelli per intervento da dietro su Sottil a metà campo, 13 minuti Sottil guadagna un calcio da angolo. Sulla battuta di Akate di testa di poco alto, 10 minuti gol Capanni si smarca dalla marcatura avversaria, si accentra e dal limite della rea con un tiro a girare segna 7 minuti punizione di Sottil in area respinta di testa da un difensore rosso nero 2 minuti Fiorentina subito avanti con Sottil che costringe alla deviazione in tuffo di Guarnone in angolo iniziata cari amici di Super News, Il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi la sfida in gara secca negli ottavi di Coppa Italia tra la Fiorentina di Emiliano Bigica e il Milan di Alessandro Lupi che ha preso il posto di Ringio Gattuso subentrato in prima squadra Vincenzo Montella. La vincente incontrerà nei quarti una squadra tra il Chievo e il Perugia, i giovani Viola debuttano in questa competizione proprio in questo turno mentre i coetanei rossoneri hanno già eliminato nei precedenti incontri la Salernitana e l'Empoli. Nell'ultima giornata di campionato, la decima, la Fiorentina ha perso per 1-0 a Udine mentre il Milan ha vinto per 2-0 in trasferta contro il Chievo. In classifica adesso i Viola sono quinti insieme a Torino, Sassuolo e Juventus mentre i rossoneri sono terzi dietro all'Atalanta e all'Inter capolista. Fiorentina Cerofolini, Mosti, Ranieri, Pinto, Valencic, Simonti, Sottile, Diacheit, Longo, Magangic, Lacti, Ol, Bigica, Milan Guarnone, Negri, Llamas, Campeol, Elilali, Sportelli, Murati, Pobega, Larsen, Dias, Capanni, Ol, Lupi, Arbitro, Volpi di Arezzo, le partite in programma oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Lazio, Bari, Chievo, Perugia, Roma, Palermo, Atalanta, Udinese, Fiorentina, Milan, Inter, Novara, Juventus, Torino, Sampdoria, Genoa.